E parliamo di medicina, c'è un nuovo dispositivo medico per combattere gli effetti del Parkinson. Ho il Parkinson da 15 anni, adesso non riesco più a camminare nonostante la dose di farmaci sia aumentata. Un notevole aiuto l'ho avuto da questa marchigegno che si chiama gondola. La malattia di Parkinson è una malattia degenerativa evolutiva che nel corso della sua storia presenta dei disturbi che avanzano e che talvolta sono difficilmente trattabili. In questo paziente bene, ha dato una buona risposta alla risposta terapeutica con dei farmaci ma a un certo punto sui blocchi del cammino, i cosiddetti blocchi motori, la terapia farmacologica e la stessa stimolazione cerebrale profonda danno poco. Ho 64 anni e prendo da 10 ai 12 pastigli al giorno e non so fino a quando riuscirò a mantenere questo ritmo. Con questo sistema io riesco a diminuire il dosaggio dei farmaci e nel contempo di avere dei risultati. Il cammino compromesso è il problema più importante per il malato di Parkinson. È la prima causa di invalidità. La stimolazione meccanica in alcuni punti del piede arriva al cervello ed è in grado di migliorare i meccanismi del cammino. Il neurologo moderno oggi giorno ha a disposizione diversi rimedi nel correggere ciò che la malattia di Parkinson comporta. Il trattamento deve essere sempre personalizzato. Oggi giorno abbiamo a disposizione quindi dei farmaci sempre più ottimizzati. Abbiamo a disposizione la stimolazione cerebrale profonda, cioè infiggere due elettrodi che vanno a stimolare dei nuclei elettivi del cervello. Ma tutto ciò qualche volta non è sufficiente nel migliorare il deficit del cammino. Soltanto recentemente è comparso all'orizzonte terapeutica il device, lo strumento che è capace, inviando delle afferenze al cervello, partendo dal piede, tutto ciò migliora il cammino che risulta bloccato troppo spesso nel paziente. Grazie a tutti.